Cambiamo argomento, nuovo codice della strada, sono pesanti le modifiche apportate per chi si mette alla guida in stato alterato. Abbiamo chiesto alcuni particolari delle nuove misure all'ispettore Thomas Perkman dei vigili urbani di Bolzano. La cronaca degli ultimi anni insegna, alcol e sostanze stupefacenti non sono buoni compagni del volante. E dallo scorso mese di luglio, ovvero dall'entrata in vigore del codice della strada, un altro giro di vita ha introdotto norme più severe per chi non rispetta i limiti imposti dalla legge. Per un tasso di alcol nel sangue che va da 0,5 a 0,8 grammi per litro, c'è una multa di importo fissato a 500 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi e 10 punti decurtati. Toleranza 0, invece, per chi ha appena preso la licenza di guida o per chi ne fa uso professionale, con aumento delle sanzioni pecuniarie che possono raggiungere cifre importanti. In questo caso, però, tra le novità previste dal codice sarebbe in arrivo una misura alternativa al pagamento, la forma di sanzione cosiddetta educativa. E, agli addetti ai lavori, l'idea non dispiacerebbe. Ci sono delle famiglie che, insomma, se vengono sanzionate, come con le nuove sanzioni, con decine di migliaia di euro, migliaia di euro, insomma, si mette in difficoltà una famiglia intera per l'errore di uno. Però, se questo poi va a lavorare in posti socialmente utili, magari utile sarebbe lavorare presso strutture dove ci sono delle vittime di questi fatti, di queste persone, che hanno causato gli incidenti sotto l'influenza di alcol, ecco, magari uno comincia anche un po' a ragionare sul proprio comportamento. Alla legge c'è già, con questa nuova modifica del 29 luglio che è stata introdotta, c'è già la legge, solo che ovviamente i tribunali nelle condanne dovranno prevedere questo, visto che la legge lo consente. e poi ci devono essere strutture pubbliche o anche private che danno la possibilità di dare a queste persone questi posti di lavoro. Sanzione o meno, è bene in ogni caso ricordare che assumere sostanze stupefacenti prima, farsi trovare alla guida ubriachi, è, oltre che una pessima idea, anche un'esperienza piuttosto umiliante.